C'è un torneo molto importante e le squadre sono anche di alto livello, però non stiamo sfigurando, anzi stiamo riuscendo a giocare a dati ritmi con la mia squadra e se continuiamo così possiamo ambire anche a quinto o sesto posto oppure anche più in alto. Stai ospitando qualcuno? No, io no, però ci sono molti miei compagni che ospitano. E com'è l'ambiente che si crea quando ospiti delle persone, dei tuoi coetanei che arrivano da altre città? Io ho ospitato un ragazzo l'anno scorso e mi sono trovato molto bene di Manostica, era molto simpatico e abbiamo anche un giocatore che è da Napoli che penso si sta trovando bene qui, è ospitato da mio compagno e è molto simpatico. Grazie. 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 Grazie.